Trovato il cadavere del sub trentenne a largo del porticciolo dei filtri di Uino e Risina, si tratta di un campeggiatore tedesco, operazione congiunta di capitaneria e pompieri. Primo giorno di pattugliamenti in strada dei militari dell'esercito inviati a Trieste, nel pomeriggio schierati in Piazza Libertà insieme con la polizia. Sala Tripkovic, il sindaco di piazza, tira dritto sull'abbattimento proprio nel giorno della nuova viabilità nell'area della stazione del Silos. Qui intuplicato il numero di minori stranieri non accompagnati a Trieste dal 2014 a oggi, contatti con gli altri comuni e le prefetture, stamani commissione trasparenza. Avremo meno risorse per i nostri operatori e non potremo garantire gli standard che ci caratterizzano, così il presidente di ICS, sull'accoglienza a seguito dei nuovi bandi. 600 firme raccolti in porto per chiedere l'applicazione del regime di detassazione fiscale previsto dall'allegato ottavo, paventato uno sciopero a partire dal 20 luglio. Al via la campagna abbonamenti della Triestina, con tanta voglia di riscatto dopo la finale promozione persa, tanta voglia di stupire nella nuova annata in Serie C. Buonasera e bentrovati, una nuova edizione del telegiornale di Telequattro, che apriamo con la cronaca, non ce l'ha fatta, il turista tedesco disperso a largo della spiaggia dei Filtri di Duina Urisina, stamani il cadavere è stato ripescato dai sommozzatori. Servizio d'apertura di Gianluca Paladin. È stato trovato morto il sub trentenne di nazionalità tedesca che non dava sue notizie da qualche giorno. Ieri erano partite ufficialmente le ricerche in mare, con i vigili del fuoco impegnati assiduamente nel tentativo di localizzare il giovane. Pompieri e Capitaneria hanno battuto senza sosta per tutta la domenica l'area a largo del porticciolo dei Filtri di Urisina, allargando il campo d'azione anche al braccio di mare in direzione Sistiana, da una parte e Grignano dall'altra. Impegnato anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Venezia per monitorare lo specchio acquio dall'alto. Forse però proprio l'attrezzatura da sub ha contribuito a mantenere il corpo sotto il pelo dell'acqua, rendendo ancora più complesse le ricerche di sommozzatori e imbarcazioni. L'allarme è stato lanciato dagli altri bagnanti che non notavano da parecchio tempo il sub, nonostante la sua tenda fosse rimasta sulla spiaggia di Ciottoli. Il giovane si era immerso per visitare i fondali marini della costiera. Non si sa il momento esatto in cui deve aver perso il controllo della situazione, forse in concomitanza con le brevi ondate di maltempo che si sono riversate sul capoluogo Giuliano. Brevi ondate, ma della durata sufficiente, vista l'intensità della pioggia e del vento, per mettere in difficoltà chiunque si trovasse in mare in quel frangente. Il turista tedesco stava sicuramente effettuando attività subacquea, visto che vicino alla sua tenda non c'erano le attrezzature da immersione che utilizzava. Poco dopo le 11 di stamattina, quindi, la triste scoperta. Prima il ritrovamento della maschera e del boccaglio, poi il cadavere che galleggiava tra i flutti. È partita anche a Trieste oggi l'operazione strade sicure con l'impiego dei militari nelle zone centrali della città. 15 uomini in su più turni a Trieste, anche di notte, a presidio dell'area del Porto Vecchio, del Silos, delle Rive, della zona dell'Ausonia, ma si è partiti da una delle aree più calde, Piazza Libertà, il servizio di Bernardo Gulotta. Dalle parole ai fatti, le divise dell'esercito menzionate nei giorni scorsi come supporto ai controlli urbani a contrasto della rotta balcanica sono comparse oggi e continueranno anche nei prossimi giorni con pattugliamenti mirati, coordinati dalla Questura di Trieste. I militari sono entrati in servizio questa mattina nell'ambito dell'operazione strade sicure. Il loro operato si concentrerà nella zona del Porto Vecchio, del Silos, di Piazza Libertà, del Porto Nuovo, dell'Ausonia e lungo le Rive, ovvero quelle zone dove sono soliti fermarsi i migranti che arrivano in città. E il termine fermarsi non è scelto a caso. Numerose segnalazioni di cittadini ed esercenti infatti provengono da differenti punti del territorio comunale, ma anche dai municipi della provincia. In questi casi però si tratta soprattutto di passaggi. Alle aree di Patriciano, Basovizza e Domio si affiancano Piccina, strada di Fiume e via Commerciale, dove nella notte fra domenica e lunedì un residente ha notato una decina di migranti accampati alle 4 del mattino a una fermata del bus, mentre un motociclista ha visto 4 migranti scendere in fila indiana nella medesima strada, all'altezza di via Cordaroli. Tornando a strade sicure, saranno impiegati complessivamente 15 uomini, i cui turni copriranno giorno e notte. I militari fanno parte della 132esima brigata Ariete, 32esimo reggimento Carri, distanza Spilimbergo. All'avvio dell'operazione, il questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, ha confermato che l'attività incominciata oggi sarà osservata con un occhio di riguardo, al fine di valutarne progressivamente gli esiti e capirne poi gli sviluppi futuri. Il tutto con particolare attenzione alle esigenze della cittadinanza. Ancora a cronaca, vincevano bandi pubblici, ma poi non eseguivano i lavori. Tre persone sono state poste agli arresti domiciliari per associazione a delinquere, finalizzata la commissione di truffe ai danni di enti pubblici. Complessivamente 14 le persone indagate. Dall'indagine avviate dalla Polizia Locale di Trieste, coordinate dalla Procura, emerso un presunto sistema di frode attraverso il quale diverse società partecipavano a bandi pubblici, indicando quali esecutori dei progetti. Due società con sede in Bulgaria e Montenegro, amministrate da uno degli indagati. Nessuna delle due aveva una struttura operativa né dipendenti, ma venivano utilizzate per emettere fatture e dimostrare l'esecuzione dei lavori. Le fatture venivano quindi pagate su conti correnti esteri e i soldi, con vari passaggi, rientravano nella disponibilità degli indagati. Le somme indebitamente percepite ammonterebbero a circa 800 mila euro. Ancora cronaca con la prosecuzione delle indagini sulla cosiddetta banda delle casseforti che ha colpito tre volte negli ultimi 15 giorni a Trieste. Sentiamo le ultime novità sulle indagini della squadra mobile. Si stringe la morsa delle indagini sulla banda delle casseforti che potrebbe essere responsabile di tre colpi in 15 giorni a Trieste all'Aperto Tecologia, allo stabilimento balneare ferroviario e venerdì scorso la piadineria di Viale 20 Settembre. Un dato oggettivo anche secondo fonti della squadra mobile, il fatto che raramente, se non addirittura mai nel recente passato, vi siano stati furti a Trieste in stretta sequenza con armadi blindati come obiettivo. Il lavoro dei poliziotti è mirato a individuare frammenti di immagini reperite tramite i circuiti di telesorveglianza che possano incastrare eventuali responsabili con la speranza che, incrociando i fotogrammi rispetto ai differenti colpi, si possano riscontrare gli stessi individui notando dettagli decisivi per la loro identificazione. Un ulteriore tassello utile alle indagini è arrivato ieri pomeriggio quando un dipendente della Pertotecologia ha notato il piaggio porter rubato per portare via la cassaforte dalla stessa ditta parcheggiato in via Savio. Il mezzo non presentava manchi, tranne ovviamente le chiavi. Anche qui, eventuali impronte digitali lasciate sul furgoncino potrebbero aiutare la polizia a risalire i ladri. Il porter era stato rubato dai malfattori per portare via il blindato, particolarmente pesante, appoggiato al pavimento del sottoscala. Sempre non incassata, anche la cassaforte della Caveja in viale con all'interno oltre 10.000 euro in contanti, mentre al ferroviario l'oggetto del furto era fissato al muro in cucina. In quell'occasione le mire, però, furono rivolte anche al fondo cassa. Tutti i dettagli che fanno presumere che si tratti di un gruppo di malviventi che agisce sulla base di informazioni sicure ma che non punta necessariamente al colpo grosso quanto a blitz veloci con bottino assicurato. Sentiamo ora le altre notizie di cronaca della giornata raccolte nello spazio in breve. In un supermercato di via Montorsino due giovani hanno sottratto da una cassa circa 600 euro. Le indagini sono in corso. La cassiera era momentaneamente assente mentre la cassa era aperta e proprio in quel frangente sono stati trafugati i contanti. Si lavora sulle telecamere di sorveglianza per capire se possono aver incastrato i responsabili. Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento un cittadino turco, 56enne. Arrabbiato per aver perso le slot machine ne ha danneggiata una all'interno di un esercizio commerciale all'autoporto di Fernetti infrangendo con una serie di pugni il vetro dello schermo e ferendosi un dito della mano. Ieri pomeriggio in un'altra sala slot in via Madonnina un cittadino marocchino, 37enne, residente in città ha importunato ripetutamente una dipendente disturbando anche i clienti presenti. L'uomo è stato sanzionato per ubriachezza. Incidente stradale tra due macchine è successo ieri sulla superstrada prima dell'Italcementi in direzione Trieste. Sul posto i sanitari del 118 la polizia locale, i vigili del fuoco i quali hanno estratto dalle lamiere di una delle due vetture l'unico ferito. La squadra di intervento ha quindi poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Sala Tripkovic, futuro di Piazza Libertà la discussione attuale nell'ambiente politico con le opposizioni che criticano la scelta del sindaco di piazza di abbattere la sala è il primo cittadino che invece tira dritto. La Tripkovic? Beh la Tripkovic è una cosa che a me non piace. Probabilmente non era necessario rimarcare la posizione del sindaco nel giudicare la sala Tripkovic il futuro dell'area oggetto attualmente di riqualificazione. Di piazza ogni modo prosegue spedito nel progetto della nuova piazza come aveva anticipato Arringo la settimana scorsa al netto delle critiche delle opposizioni che oltre a interrogarsi sui costi dell'abbattimento non vedono pronta un'area alternativa che prenda il posto della Tripkovic. Infine anche una condivisione del progetto in consiglio comunale che oggi è ancora assente. La mia perplessità in relazione alla scelta fatta è che non è per niente chiaro quanto venga a costare abbattere la sala Tripkovic visto che rispetto alla continuazione delle attività della sala si parlava di costi troppo alti e quindi sarebbe utile capire se costa di più abbatterla o ristrutturarla e mantenerla. Non c'è assolutamente chiarezza su un polo di tipo alternativo con una capienza del genere che come sappiamo dava spazio anche a molti festival e attività giovanili e quindi riusciva a raccogliere tutto il pubblico delle scuole non è chiaro quale sarà il progetto definitivo se c'è stato l'ok della sovraintendenza o il permesso che mancava non abbiamo avuto comunicazione in merito come consiglio e le gradiremmo per una valutazione di tipo definitivo. Di parere favorevole rispetto a quanto dichiarato da Di Piazza c'è Forza Italia che come per il resto della maggioranza segue la linea del primo cittadino. L'idea lanciata dal sindaco è un'idea corretta Evidentemente la Sala Tricovic oltre a comportare dei costi eccessivi di manutenzione che non si è in grado di sopportare e non si è in grado di utilizzare in qualche modo in maniera più costruttiva questa struttura consentirà di avere una spazialità una prospettiva con il Porto Vecchio con quello che è sostanzialmente un nuovo cuore pulsante della città e quindi dare finalmente una dignità a questa piazza e al biglietto di avvisi della nostra città. E partita da oggi durerà 15 giorni la modifica alla viabilità in Piazza Libertà e nel tratto stradale che dalla piazza punta in direzione di Corso Cavour ciò comporterà la chiusura di un tratto di strada e la modifica per chi deve raggiungere le rive dalla stazione si transita infatti davanti all'Exilos e all'ingresso del Porto Vecchio girando alle spalle della Sala Tripcovic si potrà poi svoltare verso Via della Geppa oppure transitare sulla Bretella verso Piazza Duca degli Abruzzi arrivando all'ingresso del molo quarto e raggiungere quindi le rive un progetto esecutivo per la nuova piazza di Roiano darne annuncio sempre il sindaco di piazza che poco fa ai nostri microfoni ci ha dato le ultime novità rispetto all'opera che comprenderà un asilo un parco e cento posti auto Roiano è pronta oggi presenteranno il progetto esecutivo andiamo in gara anche lì c'era un progetto sai dopo due piazze come ho detto prima Piazza Vittorio Vene o Piazza Goldoni se facevo il progetto precedente avrei fatto la terza piazza sbagliata credo che abbiamo fatto un bellissimo lavoro oggi viene presentato l'esecutivo andiamo in gara e partono i lavori Rientriamo in studio per la pagina dedicata all'immigrazione e all'accoglienza innanzitutto notizia di questo pomeriggio che anche la Slovenia intensifica i controlli alla frontiera con la Croazia tra l'altro quello di utilizzo a brevissimo nella frontiera tra Slovenia e Croazia anche di droni e il governo di Ljubljana ha fatto trappelare notizie molto simili a quelle che sono state comunicate a Trieste dal ministro Salvini ovvero si sta pensando a diciamo delle nuove barrieramenti dei nuovi qui si è parlato di muri ma sono barrieramenti a tratti come ha parlato il presidente Federica che ha detto non muri ma barrieri in alcune zone dei confini ne parla anche la Slovenia per la frontiera tra Slovenia e Croazia in fase di valutazione anche da parte di Ljubljana questo tipo di decisione intanto oggi a Trieste in commissione trasparenza del comune si è parlato del forte aumento degli arrivi di minori stranieri non accompagnati a Trieste sentiamo Trieste ha rappresentato sempre un punto in cui tutto il paese guarda proprio perché siamo in un territorio di confine abbiamo da sempre accolto questi ragazzi che hanno bisogno del nostro supporto in maniera super decorosa schermagli e procedurali stamani in comune hanno caratterizzato la seduta della commissione trasparenza convocata dalla presidente pentastellata Bertoni per discutere la situazione dei minorenni stranieri non accompagnati che a suo dire non riescono a completare il proprio percorso formativo questo è un tema molto delicato che il comune di Trieste ha sempre affrontato in maniera sinergica con le varie istituzioni penso gli organi di polizia ma anche poi gli enti educativi e le strutture che si occupano poi della gestione alla Bertoni è stato rimproverato di non aver fornito agli altri componenti della commissione i necessari pezzi d'appoggio per poter discutere la questione ma anche da parte dell'assessore Grilli un uso eccessivamente disinvolto di certe definizioni l'esponente Grilli aveva infatti parlato di carenza da parte dell'amministrazione comunale in tal senso direi che in questo momento quello che ci sta preoccupando è il numero stanno aumentando tantissimo nell'arco di 5 anni sono quintuplicati come numero e Trieste poi è un numero il più alto in regione per capita rispetto ai cittadini che compongono il nostro territorio abbiamo già avuto degli incontri anche in prefettura e per valutare anche assieme a tutte le altre prefetture le questure ma anche gli istituti didattici come affrontare il tema è un tema sicuramente che ci vede protagonisti e per la tutela di questi ragazzi che hanno bisogno del nostro supporto ma anche per la tenuta dei conti che in questo momento sicuramente ci stanno preoccupando quindi dinanzi ai 5 consiglieri presenti c'è tempo per citarli tutti Vettio Porro Danielis Famulari e Morena De Gioia ad un certo punto ha lasciato un'aula né sorda né grigia ma indubbiamente fredda tanto da far gridare a più di uno facciamo entrare un po' di caldo è iniziata la discussione assai tecnica per dire il vero durante la quale le problematiche sono state affrontate nella loro complessità in questo momento noi abbiamo circa 250 ragazzi sono tutti maschi prevalentemente arrivano dal Kosovo alcuni dal Pakistan qualcuno dal Bangladesh e dal resto del mondo ma sono pochi diciamo che sono prevalentemente ragazzi che qui vengono per un percorso didattico fondamentalmente pochissimi sono quelli che scappano dalla guerra per questi ci sono poi dei trattamenti particolari perché se ci sono dei ragazzini che hanno davvero vissuto questa terribile esperienza hanno bisogno di un supporto più integrato più incisivo anche in collaborazione con l'azienda sanitaria e prima della pubblicità chiudiamo la pagina dedicata proprio all'accoglienza e ai migranti il presidente dell'ICS Gianfranco Schiavone ospite stamani a Sveglia Trieste è tornato sulla questione che preoccupa le realtà che si occupano di accoglienza che con le nuove norme sugli appalti a ribasso ha detto Schiavone vedrebbero compromesso il loro lavoro si prevede una media di un operatore ogni 50 persone quindi vi lascio immaginare che tipo di relazione ci può essere si prevede un numero di mediatori un monteore di mediatori che fa impressione io ho calcolato che con le previsioni con le attuali tabelle ministeriali ogni ospite avrebbe a disposizione un interprete per un minuto e cinque secondi al giorno il punto attorno alla questione dell'accoglienza è che tipo di organizzazione avere e che tipo di servizi dare se avere il sistema dell'accoglienza diffusa attuale se avere un sistema di tipo concentrazionario se avere un rilevante numero di persone di operatori sociali che si occupano delle persone o se avere guardiani e pochi magari se avere un percorso di inclusione sociale dei richiedenti asilo o semplicemente parcheggiarli senza fare nulla tutto il giorno questa è la discussione nessuno di noi determina le presenze noi determiniamo che cosa possiamo fare con queste persone quindi questo è l'ambito e ciò che abbiamo sollevato è che il nostro sistema è un sistema che produce positività che produce quello che sapete cioè anche una microeconomia diffusa dicesse sostanzialmente un luogo attraverso il quale passano le risorse per poi andare a operatori servizi cittadini che affittano trasporti scuole abbiamo un numero oscillante intorno a un operatore ogni 10 o circa ogni 10 ospiti in modo che le persone noi ci teniamo che ci sia un rapporto molto stretto tra gli operatori la possibilità di seguire le persone direttamente di seguire il loro percorso di vita ben trovati con il telegiornale di Telequattro hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano imputati nel processo per riferimento del nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo di origini triestine ferito da un colpo di pistola in piazza Eschilo a Roma la notte fra il 2 e il 3 febbraio scorso Manuel è rimasto paralizzato le gambe da quella domenica sera da quella drammatica domenica sera sta continuando con un impegnativo lavoro di riabilitazione il proprio processo per un ritorno per un ritorno diciamo non alla normalità ma quantomeno a una vita per il più possibile indipendente nonostante il problema alle gambe parliamo ora di Porto 600 firme sono state raccolte dai sindacati portuali CLPT e USB tra i lavoratori dello Scalo per chiedere l'applicazione del regime di detassazione fiscale previsto dall'allegato ottavo del trattato di pace previsto uno sciopero a partire dal 20 luglio qualora non vi fosse un accordo ma ci sono importanti aperture sul fronte politico e non solo noi abbiamo paventato uno sciopero abbiamo aperto uno stato di agitazione abbiamo consegnato a tutti la nostra petizione di 600 firme che riguarda la detassazione fiscale rispetto pieno dell'allegato ottavo del trattato di pace il messaggio dei lavoratori portuali è chiaro se si applicano le regole dell'allegato ottavo per aziende spedizionieri allora vanno applicate a pieno anche quelle che riguardano i lavoratori del porto franco di trieste da qui le 600 firme raccolte da clpt e usb tra le maestranze in un momento in cui il fronte comune tra parti datoriali e dipendenti potrebbe fare la differenza sono infatti pure gli spedizionieri a battere cassa sul fronte del trattato di pace vedi la richiesta di 2 milioni di euro di imu per la zona di trieste dove non dovrebbero essere teoricamente pagati visto il regime di punto franco l'allegato ottavo parla chiaro le merci in transito il porto di trieste e porto franco internazionale di trieste non devono essere tassate sia per gli spedizionieri che quindi anche per i lavoratori una volta che si fa pagare l'imu o delle tasse in busta paga sono tasse indirette che vanno a ricadere direttamente sulle merci e quindi questo è una violazione all'allegato ottavo e quindi alla legge che determina il porto franco internazionale di trieste dunque le richieste sulla base di quanto prevede il trattato parigino del 1947 assunzione diretta dell'ente gestore del porto franco l'autority contratti di primo livello specifico e regime fiscale speciale per i dipendenti in caso di mancata risposta i lavoratori sarebbero pronti a scioperare a partire dal 20 luglio in realtà è stata riscontrata una forte apertura sul tema nell'incontro fra le rappresentanze sindacali con il presidente dell'autorità portuale d'agostino il governatore Fedriga e il capogruppo alla camera dei 5 stelle Patuanelli ci sono state date due date una è il 10 di luglio dove andremo in autorità portuale a parlare direttamente con il presidente riguardo a materia sindacale quindi di giornata diciamo e dopodiché abbiamo avuto un impegno ufficiale sia dal senatore Patuanelli che dal governatore di trovarci entro fine luglio a Roma in ministero delle finanze per iniziare a discutere la questione seriamente tra gli investitori interessati al porto di Trieste ci sono anche aziende degli Stati Uniti lo ha affermato il presidente della regione Massimiliano Fedriga rispondendo a una domanda sul nuovo contratto di compravendita tra il governo ungherese e due soggetti privati Teseco e Sistoc la pluralità degli investitori interessati al porto di Trieste ha detto il governatore la più grande garanzia su rischi di svenita e monopoli e parliamo ancora di porto perché a 300 anni della nascita del porto franco di Trieste Venice Film Venice Film realizzerà un documentario sulla storia del porto di Trieste in particolare anche legata a questa importantissima agevolazione fiscale sentiamo 18 marzo 1719 nasceva il porto franco di Trieste un evento che ha mutato per sempre la storia della città rendendola da subito punto strategico per le relazioni commerciali ed economiche tra oriente e occidente tra Europa continentale e mediterraneo a 300 anni dall'istituzione del porto franco di Trieste Venice Film intende realizzare un film documentario sulla storia e l'importanza del porto di Trieste dalle sue origini ad oggi da questo documentario sicuramente quello che c'è da spettagli è un soffermarsi sull'aspetto storico culturale di una città che si trova a diventare mite europea quello che noi conosciamo di Trieste adesso possiamo vedere che proprio ha il suo inizio qui quindi la nascita di questo porto e la successiva espansione di questa città porta proprio quello che noi vediamo ora un documentario che analizzerà nei particolari anche la figura di Maria Teresa d'Austria che ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della città trasformando Trieste da una terra di frontiera a una porta della Mitteleuropa e quindi riflettersi anche su questo periodo così complesso anche dal punto di vista culturale anche di scoperte scientifiche tutto quello che è stato fatto credo che sia molto importante anche per aiutarci a riflettere sui tempi di oggi E di 155 milioni di euro il budget del disegno di legge 55 è il primo vero assestamento della giunta regionale e della maggioranza in consiglio regionale stando alle parole dell'assessore Zilli il provvedimento dice lo stesso assessore figlio anche dell'accordo sottoscritto dal presidente Federica con il ministro dell'economia Tria nel febbraio scorso che ha consentito di ottenere maggiori risorse rispetto al precedente patto sottoscritto con lo Stato e di valutazioni di prospettiva fiscale che hanno portato all'accensione di mutui per favorire la crescita domani nel nostro TG tutto il dibattito tra le forze politiche e le dichiarazioni del presidente Federica proprio sul tema di quella che viene definita normalmente la manovra estiva la manovra regionale estiva chiudiamo con il via della campagna abbonamenti della Triestina che vuole riscattarsi in Serie C dopo la finale promozione persa con il Pisa vi lascio in compagnia di Bianca Navarra Testardi come muli i ragazzi di Pavanel non mollano e sono pronti al riscatto questo è il messaggio griffato sulle nuove divise ufficiali della squadra rossa bianca e blu dopo la straordinaria stagione appena trascorsa dove i rosso alla Bardati hanno sfiorato la promozione in Serie B la Triestina torna alla carica con la nuova campagna abbonamenti da oggi fino al 16 luglio dedicata esclusivamente agli abbonati mentre al 17 luglio partirà la vendita libera per abbonarsi basta recarsi o in sede societaria o al centro coordinamento Triestina Club di Via Macelli abbiamo mantenuto invariato il prezzo della curva aumentato di 10 euro solamente gradiata di tribuna però che va l'iniziativa poi che ha comprato lo sconto 13 euro l'europeo quindi avrà una riduzione anche loro abbiamo messo per gli universitari insomma una cifra di 50 euro simbolica e quindi ridotti aumentano speriamo che tanti giovani vengono a trovarci e ripartiamo dalla finale del Pisa per cercare il più pubblico possibile dopo le 3.200 test restaccate lo scorso anno l'obiettivo della Triestina è quello di raggiungere quota 4.000 garantendo un supporto costante al Rocco e alla squadra che punta di riproporsi al vertice e lottare per la promozione di riproporio di riproporio di riproporio di riproporio